Come si concilia oggi il problema del lavoro, della democrazia, con il dibattito sulla Costituzione e la riforma della Costituzione nel nostro Paese? Credo che i problemi ci sono tutti. Noi abbiamo promosso a suo tempo quella manifestazione proprio per indicare un percorso di cambiamento. Io rimango convinto che non si deve semplicemente difendere la Costituzione, ma bisogna attuarla e bisogna usare quei principi per cambiare questo Paese perché siamo di fronte al fatto che in questi anni non è stata applicata la Costituzione, in alcuni casi è stata cambiata, pensiamo all'inserimento del pareggio di bilancio e oggi il lavoro e la realizzazione delle persone nel lavoro non è il punto centrale delle politiche che vengono realizzate in Italia e in Europa. Quindi io penso che quella battaglia, quella rotta, vada proseguita e bisogna a questo punto sfidare la necessità di un cambiamento di questo Paese perché chi è giovane è precario, chi lavora sta male, hanno cancellato le pensioni e lo Stato sociale e il livello di ingiustizia sociale e di diseguaglianza non ha precedenti e questo è in contraddizione con i principi della nostra Costituzione e credo che questa battaglia sindacale, politica e dei cittadini deve essere portata avanti e debba essere attualizzata anche in un confronto con questo Parlamento e con questo nuovo governo. Tu poco fa hai parlato del fatto che si parla di cambiamento di riforme da almeno 20 anni ma poi non vengono attuate. Adesso c'è un governo che promette di fare delle modifiche, significa che le modifiche e le riforme che ci stanno proponendo vanno bene così oppure c'è qualcosa che si può obiettare anche a questo tipo di modifiche? No, bisogna avere la forza di un merito, quindi intanto come è nato questo governo io continuo a considerarlo un problema perché di fatto si è fatto l'ennesimo governo senza che questo sia legittimato direttamente dal voto. Il Parlamento è lo stesso che la Corte Costituzionale ha dichiarato eletto con una legge che non è proprio costituzionale e questa contraddizione io la vedo perché cambiare il Paese con un Parlamento che rappresenta quelle forze politiche che finora non l'hanno cambiato io continuo a pensare che sia un problema. Detto questo c'è una novità, Renzi incarna un elemento di novità con cui fare i conti e questo il problema non è essere d'accordo o contrario per principio, il problema è valutare concretamente quello che si fa e dal mio punto di vista se la guardo sindacalmente è quello di sfidarlo rispetto a un cambiamento, quindi ci sono cose che lui ha annunciato su cui io sono d'accordo, se si vuole far pagare meno tasse a chi lavora e a redditi bassi io sono d'accordo, ad esempio ha parlato solo di lavoro dipendente, non ha parlato di pensionati, non ha parlato di forme di lavoro precario, di tante altre forme che ci sono e quindi questo è un terreno da rilanciare, da sviluppare, dice che vuole tassare le rendite finanziarie, sono d'accordo, ma allora bisogna aprire una battaglia vera anche sull'evasione fiscale, bisogna aprire una battaglia vera che affronti il problema del rilancio degli investimenti pubblici e privati, quindi vuol dire sfidarlo anche su altri terreni. Allo stesso tempo i provvedimenti che il governo ha messo in campo sul mercato del lavoro sono secondo me sbagliati, questa idea di liberalizzare i contratti a termine o di rendere facile l'apprendistato, cioè far pagare meno le imprese senza alcun vincolo, rischiano di lasciare la precarietà nel lavoro come punto di vita di ogni persona, però anche qui la risposta secondo me non può essere solo dire non vanno bene quei provvedimenti, chi è non al governo, penso al sindacato, altre forze, quale progetto di società hanno su questo? Allora io penso che bisogna fare una battaglia per cancellare tante forme di lavoro inutile, bisogna fare una battaglia per introdurre un reddito minimo garantito, bisogna fare una battaglia perché si introduca davvero una forma di contratto unico alternativo alle tante forme di lavoro precario e bisogna rilanciare una politica di investimenti che veda anche una riduzione degli orari di lavoro, una redistribuzione del lavoro come punto di fondo su cui agire e questo secondo me è l'atteggiamento che si deve avere, si deve costruire perché se si vuole impedire che venga svilita la carta costituzionale attraverso anche forme, riforme elettorali non condivisibili, insisto in questa fase secondo me il passaggio è quello di avere delle proposte, di costruire un consenso sociale sulle proposte che fai. Grazie.